Ma che ci fai nella macchina di mio padre? Non sapevo dove andare a dormire. Tu non glielo dirai, vero? No, certo. Però ti vengono in mente certe idee. Senti, adesso ci facciamo uno spinello e te ne vai subito. È lui! Scappa! Che stavate facendo? Gente, va! No! 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 Maiale depravato! Cosa volevi fare, mio figlio? Io non ho fatto niente. Assassino! Dite! No! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.